E' partita anche questa gara, qui si fa succedere veramente, ci sono gli avventi più attivitati della provincia, insieme a loro abbiamo questi tre giovani puletti di rubini e racchè, attendiamo di vedere il peggio, vediamo passare a Checola, Gianni, Gianni Roberto. E' Eufemi e 63 Gaibazi Matteo, Gaibazi Matteo, passano in 6,27, 6,27 al secondo chilometro, metà di costo c'è, anche Cola è passato attorno ai 6,40, 6,45 per Zanni, e vediamo adesso Forza Roberto! Forza Roberto! le persone al 2004 ed ecco la testa della gara il governo di Orubiera è stato seguendo una quarantina di metro 30 metri di Asin abbiamo passato 9.37 per Asin e passano 9.44 due portacolosi della correntina di Orubiera costruzze dei stati a tutti i portacolosi sono 17 giri sono 17 giri per solitari i conti che passano benissimo e vediamo che passano ancora grazie 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 bene 15 giri per la 6 bravo Roby benissimo eh Roby un'udito 12 giri 4 milioni 4 milioni 15 giri per la 9 giri per la 6 vediamo ancora e e saluta a casa persone mi raccomando passano passano 6 chilometri in lunghi 15 giri per gola forza Roby e dal gruppo di Terzoni 17.30 per Terzoni Grego transitati i nomi Magliani Saperdo e del Fabio e il signore transitato ai 7 chilometri deve fare 7 6 giri 1 e 12 al giro proviamo 30 e 39 forza Roberto 30 e 39 ha accelerato ulteriormente e assina voglia di andare direttamente agli spogliatori a passino torcia ha accelerato sto ritratto di gara sicuramente abbondantemente sotto i 32 bravo Yasin grande 31 e 45 veramente arrivando al tre guardo tra i guarderoli sul tempo sul piede del 33 42 ottimo tempo bravo vai allunga allunga ultimo ultimo vai 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 allunga tutti qualche polemico due a 2 a 1 2 2 1 166 quattro 4 29 1 Allega il gol! Un giro! Riferì! Grande Fabio! Un giro! Un giro! Allega, all'Italia! Un giro! Allora, un giro! Dai Luca! Dai! 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 Grazie. 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 No, lui ha finito, ha finito. Ha finito. Ha finito. Ha finito. Ma ho finito? Ho finito. Ho finito. Ma dici, ma io perché... Io perché se tracca... Il mio sicuro ti va così forte. Dici, è un altro che mi vuole. Eh, va bene, va bene, va bene, va bene. E anche una cosa che fa. Che come si fa? Ah, no. Buongiorno, 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 buongiorno.